Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. In A11 per incidente, uscita chiusa a Sesto Fiorentino provenendo da Firenze. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Sempre in Fipilì per interventi di asfaltatura e di pavimentazione stradale. Anche stanotte, in orario 22.06, sarà chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Montelupo-Fiorentino ed Empoli Est in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!